Io scuotevo la testa perché io trovo veramente, vi giuro, vi trovo ridicolo. Determinate cose che vengono dette sono ridicole. Qual è la cosa ridicola? La ridicola è che noi non abbiamo qua, non c'è nessun rischio di prendersi niente. Con tutte le distanze, attenzioni, noi stessi, mille attenzioni. Mai, tanto è vero, signori, che io vi vorrei far notare una cosa. Al 28 di settembre noi stavamo a 1.500, poco meno di 1.500 contagi. Se il problema fossimo stati noi, i noi ristoratori... Perché tu sei stata aperta tutto il tempo, quindi tu dici non possiamo essere noi, non posso essere io. Sempre, io dal 28 maggio non ho... Voglio rispondere questo, Antonella. Io sono convinto che Antonella e tutti i ristoratori, la grande maggioranza, rispetti tutte le regole. La razza di questa norma, giusta o sbagliata che sia, è far andare in giro meno gente possibile, salvo quella che alla mattina va a lavorare. E la razza può essere sbagliata. Ma non è una... Detto questo, abbiamo visto l'incastro di Antonella oggi. Antonella, credo che mi potrà rispondere, con questa curva di contagi, non credo che settimana prossima o fra dieci giorni la gente avrà tanta voglia di uscire di casa. Quindi il problema di Antonella è che Antonella, giustamente, deve chiedere tutti i soldi di cui ha diritto. Perché, dice Gomez, Antonella, in un modo o nell'altro, se quella curva sale come sta salendo, i clienti non verrebbero lo stesso. È questo, purtroppo. Allora, posso intervenire un attimo? Sì, e poi tanto torno da te, però dai pure la risposta a Gomez che poi va via, prego. Allora, l'unica risposta che do il veloce veloce è questa. Io fino adesso ho avuto sempre gente, nonostante i contagi siano saliti, perché qui, in questi posti, sono in sicurezza, come sono in sicurezza in tanti altri posti, che hanno chiuso, sono per l'incapacità di gestire l'apertura delle scuole e i mezzi di trasporto. Perché noi stiamo così, per questo problema. Vero. Allora, questo mi pare un punto di vedere. Antonella ha ragione al mille per mille. Noi paghiamo! Come studiare sulle capacità di gestire i mezzi delle scuole?